ciao ciao a tutti come state tutto bene oggi video svuota la spesa forse è meglio dire stasera video svuota la spesa perché ormai sono le sette e mezza di sera sono andata a prendere mia figlia a danza e poi siamo andati a fare la spesa ho voluto fare una piccola spesa perché c'era la promozione prendi uno e l'altro non lo paghi quindi insomma quando ci sono queste promozioni mi spiace non comprare nulla quando si può risparmiare benvenga quindi oggi quindi stasera video svuota la spesa spero che il video vi piaccia mi raccomando mettete pollicino in su i commenti saranno ancora disattivati non per colpa mia ma è youtube che ha deciso così quindi se poi volete venire su instagram tramite direct a chiacchierare benvenga a chiacchiere e incominciamo video svuota la spesa questa è la mia spesa che ho fatto stasera c'era la promozione prendi uno e l'altro gratis quindi ho voluto prendere un po di cosine tutto in offerta ma incominciamo allora ho preso questo prodotto della scotti buona idea risotto milanese con zafferano ambrato con riso carnaroli appunto ho comprato un pacchetto e l'altro gratis ho voluto prendere anche questo gusto con i funghi porcini uno l'ho pagato l'altro no poi ho preso questo pesto della sacla senza olio anche in questo caso ne ho presi due perché uno l'ho pagato l'altro no poi ho preso questa pasta della agnesi grano duro 100 per cento italiano uno l'ho pagato l'altro no poi ho preso queste piadine della marca roberto e ne ho prese due perché appunto una l'ho pagata l'altra no ho preso queste quattro birre due le ho pagate e due no poi ho preso questa poi ho preso questa pizza al ristorante ho preso la pizza ai funghi pizza al prosciutto pizza al salamino piccante e un'altra al prosciutto ne ho prese quattro due le ho pagate e due no poi ho preso questo poi ho preso questo minestrone tradizionale della findus uno l'ho pagato l'altro no ho preso questo sugo pronto alle vongole uno l'ho pagato l'altro no ho preso questi funghetti della polli uno l'ho pagato l'altro no ho preso questa passata questa polpa mutti uno l'ho pagato l'altro no ho preso questo tacchino al forno stesso discorso uno l'ho pagato l'altro no avete capito no ho preso questo prosciutto cotto di alta qualità due appunto poi ho preso due di mozzarella ho preso due di parmareggio ho preso due di questa pasta misura fusilli e basta io ho fatto vedere tutto c'erano altre cose in offerta ma era era finito tutto domani voglio ritornare a prendere altre cose sperando abbiano rifornito insomma adesso mi spiccio metto i prodotti nel congelatore e preparo le pizze ecco mi stavo dimenticando abbiamo comprato queste pizze qui della ital pizza fatta con le nostre mani veramente buonissima di queste ne ho prese 3 che non c'era l'offerta prendi uno e l'altro gratis ma erano scontate al 50 quindi ne ho resett harm escrivete il nostro canale e so se passa il rockliste e dovete vedere ecco ecco Grazie a tutti.